C'è tanto rammarico, volevamo vincere, però diciamo che era nell'aria perché ci siamo abbassati e secondo me tutto è frutto del fatto che comunque giocavamo in 10 contro 11. Purtroppo già in 11 contro 11 giocavamo su bassi e ripartivamo, quindi 10 contro 11 è stato difficile. Siamo stati bravi a gestire, dovevamo esserlo di più non concedendo rigore. Io sono venuto qua perché non sono venuto qua per retrocedere, io sono venuto qua per salvarmi. Ho visto una squadra viva, ho visto ragazzi che lottano sulla palla e questo qua è quello che dobbiamo fare fino alla fine dell'anno. Contro il Carpi abbiamo fatto bene, ma soprattutto contro le nostre dirette avversarie per la salvezza dobbiamo essere ancora più cattivi. Perché sono contro loro che la cattiveria agonistica fa la differenza. Sul primo gol è stata una palla dal fondo che ha attraversato tutta l'area. Secondo me c'era un fallo su Finizio che non è riuscito neanche, stava andando indietro e non è riuscito, non gli ha permesso di andare indietro. Secondo me poteva fischiare fallo, come ha fischiato due o tre palle dopo. Però lì ha fischiato e la prima no, quindi non capisco il metro di giudizio. La seconda è una palla dove c'è stato più un errore nostro, proprio per il fatto che eravamo in due davanti al pallone, questo qua non stava neanche calciando, quindi in area non bisogna toccare l'uomo, neanche proprio stargli lontano.